Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora ragazzi, oggi parliamo di 5 cose da non fare, 5 errori da non fare, da evitare con le batterie all'edio. Numero 1, cosa importantissima ragazzi, cosa importantissima, non acquistare batterie di bassa qualità ragazzi. Perché? Perché le batterie di bassa qualità montano celle non queste, che sono già celle brandizzate, celle buone, Samsung parliamo. Le batterie che trovi in commercio, per esempio su Amazon, su Alibaba, su Aliexpress, su Ebay, economicissime. E ci sono pacchi e batterie a 40, 50, 60, 70, 80, 90, anche i 100 euro, che nella realtà minimo dovrebbero costare il doppio. Non dico oltre il doppio, però su questo poi in un prossimo video andremo a fare l'analisi reale di quanto devono costare dei pacchi e batterie buoni di qualità. Perché ragazzi oggi si sta muovendo anche, ci sono quelli che vendono batterie false a caro prezzo, ci sono quelli che vendono batterie false a bassissimo prezzo, ma ci sono anche quelli che nonostante ti montino celle discrete, buone, di qualità, però ragazzi se ne approfittano e vogliono tanti, tanti, tanti soldi. E questo a me non piace completamente. I miei studenti iscritti al corso lo sanno, devono restare sempre dentro un margine accettabile, se no il cliente finale sarà costretto per scelta obbligata, se il suo budget è più basso, a scegliere batterie cinesi a basso costo. Invece no ragazzi, chi lavora, chi assembla questi pacchi e batterie e almeno chi viene dal mio corso studio sa che deve rispettare il cliente, così da poter avere sempre nuovi lavori ed avere un cliente soddisfatto. Due, utilizzare sempre un fusibile di protezione in uscita dal pacco batterie. Tutti i pacchi batterie hanno le BMS, questa ragazzi è una super BMS, attenzione, questa è una reggina delle BMS, non tutte le BMS in commercio sono così, sono molto più piccole, molto meno potenti, questa è smart, perciò tramite smartphone puoi andarla a controllare, questa fa tante cose, però in uscita, cioè questo, questo cavo, ci va sempre un fusibile per protezione, perché se a valle del fusibile per qualsiasi motivo succede un cortocircuito, tu hai sempre quel fusibile che ti protegge l'eventuale pacco batterie, anche se la BMS deve avere integrata sempre o quasi sempre, almeno che non siano di bassa qualità, delle protezioni di cortocircuito. Tre, utilizzare sempre un interruttore generale di linea, così da non far sì che la batteria si scarichi. Ti faccio questo esempio, sul mio monopattino sono andato a montare un DC DC converter che mi, diciamo, trasforma la 48V in 12V e poi da quella a 12V tramite una porta USB mi trasforma a 5V per ricaricare lo smartphone mentre cammino, per esempio. Che cosa succede? All'inizio non avevo un interruttore su questa linea, perciò questo DC DC converter e l'altro DC DC converter, perciò che avevo dalla 48V in entrata alla 5V, avevo tutte queste varie, diciamo, trasformazioni di tensione. Tutto questo, ragazzi, mi consumava anche poco, ma mi incideva sulla batteria. Anche se io lasciavo il monopattino fermo, non ci camminavo, avevo una perdita di capacità. Perché? Perché i DC DC converter mi andavano a fare, anche se piccolissimo, un consumo della batteria. Perciò sempre montare un interruttore, sempre, così da escludere la linea quando non serve e non avere assorbimenti per nulla. 4. Evita di fare cortocircuiti in uscita, per come abbiamo detto prima, usa sempre fusibile, ma nonostante tutto ci sia il fusibile, evita di fare cortocircuiti in uscita. Se vai a smontare la batteria, attenzione ai due cavi, positivo e negativo, non fare mai cortocircuito, perché puoi innanzitutto bruciare il BMS se non c'è il fusibile. Ma può tante volte anche capitare che bruci sia fusibile che BMS. Andiamo all'ultimo. 5. Non ricaricare con carica batterie non compatibile come voltaggio e tante volte anche molto più spinto come correnti. Perché? Perché se io ho un pacco batterie, per esempio questo, da 48 Volt, una BMS, per esempio questa, da 48 Volt, vado a ricaricarla con 70 Volt, un alimentatore, un caricabatterie da 70 Volt, cosa succede? Metto il BMS sotto sforzo, do una tensione in ingresso troppo alta che non può lui gestire e se va bene brucio solo lui. Ragazzi, ma se va male brucio tutto. E qui non è che si bruciano e basta, overcharger, vanno oltre la soglia del voltaggio massimo e possono esplodere. Anche per un pacco batterie 12 Volt, per esempio, non puoi ricaricarlo con caricabatterie per 48 Volt. O ancora, non spingere al massimo con la corrente dei caricabatterie. Perché se tu ricarichi con un alimentatore, per esempio, da 10 Ampere, e il tuo BMS, non in questo caso ovviamente, ma quei BMS cinesi e basso costo, bassa qualità, possono massimo accettare 2 Ampere e tu gliene vai a mettere 10, 5, 4, eeeh... Ragazzi, problemi, problemi grossi. Fai molta attenzione. Se sei interessato a questa tecnologia, ti ricordo sempre il mio corso Battery Maker. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Ciao e al prossimo video. Grazie.